La vita dei nostri sogni. Allora, ognuno di noi ha una vita che sarebbe in teoria venuto a vivere qua sulla terra, quindi una vita che è totalmente cucita a pennello su quella persona. Questa vita come la creiamo? Imparando a seguire la nostra anima. Quindi la nostra anima ci permetterà di vivere la vita esattamente nel nostro pieno, nel nostro massimo, perfetta per chi siamo noi, in realtà, con le persone perfette per noi, nella totale armonia, gioia e amore. Però ovviamente per fare questo noi dobbiamo seguire l'anima. Quindi vuol dire per gli uomini o comunque per chi ha l'energia maschile entrare nel proprio divino maschile e per chi è energia femminile entrare nel proprio divino femminile, che comunque per entrambi è l'integrazione di entrambe le energie. Ora non voglio fare troppo complicata la cosa, ma questo è il lavoro che andremo a fare durante il nuovo percorso. Il percorso divino femminile, quindi io seguirò le donne e saranno sei mesi in cui proprio andremo a manifestare la vita dei vostri sogni sulla base della vostra anima. Questo è il fine anno. A fine anno si tirano le somme dell'anno che è stato e si mettono giù i programmi per l'anno nuovo, quindi tutti gli obiettivi che si vogliono raggiungere, che cosa si vuole fare. E se usate questi giorni per fare chiarezza anche su queste cose, sicuramente partiremo avvantaggiate nel percorso. Questo percorso non è per chi ancora deve guarire tutte le ferite, perché vogliono persone già pronte a manifestare. E per chi deve guarire le ferite c'è il percorso libera le tue ali, ma questo è veramente potentissimo, perché in sei mesi la vostra vita si stravolgerà definitivamente e inizierete a vivere nel vostro pieno divino femminile. Grazie. Grazie.